Roberta Liguori E viva! E viva! Ti lascio delle mani per metterti a tuo agio 1.500%. Buon lavoro! Grazie Livio. Allora, con questa presentazione di Livio e con questa accoglienza da parte vostra settiamo subito il livello del mio intervento a un livello altissimo. In questo momento mi sento... Avete presente Homer Simpson quando dice di qualcosa di intelligente, di qualcosa di intelligente? Ecco, la sensazione è questa. Ma nessun problema, perché io amo le sfide. E anzi, oggi vi voglio parlare proprio di risultati ambiziosi. Per farlo però, metto un po' le mani avanti. Perché, caspita, tutte le persone che hanno calcato questo palco prima di me sono tutti colossi nel mondo del coaching, della formazione, del training. Abbiamo visto tutti i miei colleghi, Ale, Andre, Roberto, lo stesso Livio, Joe. Sono persone che calcano questi palchi da 20, 25 anni. Quindi, ve lo dico subito, io non ho questa esperienza. Io sono solo 5 anni che sono nel mondo della formazione. E anche in X sono l'ultima arrivata. Non posso quindi freggiarmi di un'esperienza così importante. Posso però freggiarmi di risultati. Perché in questi ultimi anni io ho ottenuto dei risultati così importanti e in così poco tempo e spesso in condizioni così sfidanti, così pazzesche, che è questo il valore che posso darvi. Vi posso raccontare come ho fatto. Anche perché nessuno di questi risultati deriva, e su questo ci tengo a sottolinearlo, nessuno di questi risultati dipende da delle mie caratteristiche innate. E allora voglio svelarvi il mio segreto. Voglio dirvi come ho fatto a raggiungere questi risultati. Vi va? Vi interessa? Ma avete convinto niente? Vi interessa davvero? Ah, ok. Perché chi ancora non è convinto, li ho pagati tutti. Chi ancora non è convinto è perché non conosce i miei risultati. Molti di voi mi seguono su Facebook, sapete che amo condividere i fatti miei, parecchio. E per gli altri che non mi conoscono, voglio raccontarvi di che cosa sto parlando e di quali risultati sto parlando. Per cui permettetemi di fare per un attimo il pavone vanitoso. Perché voglio raccontarvi che cosa ho ottenuto in questi anni. Vi prego di credermi, non è un momento di vanto fine a se stesso, ma ha uno scopo. E quindi vi voglio raccontare del mio essere trainer, innanzitutto. Io tengo corsi di comunicazione e di programmazione neurolinguistica, ve l'ha detto prima, in tutta Italia. E questi corsi stanno avendo ultimamente un risultato straordinario. Nel senso che ci sono tante, tantissime persone che mi vengono e ci vengono ad ascoltare. E quando io ho iniziato a pensare di fare la trainer in programmazione neurolinguistica, mai avrei pensato che sarei stata affiancata a, avrei fatto la co-trainer di niente di meno che Alessandro Mora. Ale che è sempre così modesto. È una delle persone più competenti al mondo di PNL. Quindi ragazzi, ho iniziato a fare la trainer da poco, sì, ma tanta roba voglio dire, no? Insomma. E poi c'è un altro risultato importante, che è quello del mio libro. Due anni fa ho scritto un libro ed è andato pazzescamente bene. Perché questo libro si chiama Perché io sogno forte e ha venduto 10.000 copie. Mai avrei pensato a un risultato così straordinario. E la cosa fighissima è che adesso questo libro sta vendendo ancora più di prima. E quindi, caspita, in così poco tempo, scrittrice, porca miseria, tanta roba anche qua. Grazie. Ora però viene il bello. Perché in realtà c'è stata anche una grande sfida personale che ho dovuto superare. Fino a appena tre anni fa ero in cura per un cancro. Un cancro molto importante, che quel burlone del mio oncologo ha definito un tumore da Champions League. È un burlone, è un esperto di comunicazione sicuramente. Per cui ho fatto tutto il pacchetto completo. Ho fatto la chemioterapia, la radioterapia, l'operazione. Nonostante questo, grazie al mio segreto, che vi rivelerò tra un attimo, è stato facile, e ci metto le virgolette, per me superare anche questa sfida. E caspita, l'ho superata. Qui è sopraggiunto un problemino. Il problemino è questo. Io sono sempre stata una ragazza molto sportiva, però mi hanno detto, sai, ok, hai superato questo tumore, non pensare di tornare come prima. Cioè, da adesso in poi, tranquilla, calma, rilassata. Non potrai fare più lo stesso sport di prima, la stessa quantità di sport. E in effetti, non sono più tornata come prima. Avevano ragione. Perché sono diventata molto meglio. Avevo un sogno, che era quello di fare l'Ironman. L'Ironman, per chi non lo conosce, è un triatlon estremo. È una garetta che consiste nel nuotare in mare aperto per quasi 4 chilometri, poi andare in bicicletta, fare una passeggiata di 180 chilometri, e concludere così per sgranchirsi le gambe con una maratona. Impossibile per i dottori. Beh, lo scorso 4 ottobre io ho nuotato per 3,8 chilometri, sono andata in bici per 180 e ho corso per 42 chilometri alla faccia loro. Adesso però la chiudiamo, questa ruota da pavone, la chiudiamo. Perché ve l'ho detto, in realtà io ho ben poco di cui vantarmi. Nulla di tutto ciò che ho ottenuto dipende da una mia caratteristica personale, cioè da una qualità caratteriale innata. Io ho raggiunto tutti questi risultati quando ho iniziato a viaggiare leggera. E allora vi racconto la storia di una persona che fino a pochi anni fa era una persona che viaggiava e viveva schiacciata dal peso di uno zaino pesantissimo, pieno di convinzioni del cavolo su se stessa, sugli altri e sulle persone che ci circondano. Una fra tutte, io ero convinta che per avere successo bisognava dimostrare agli altri di avere successo. Chi di voi pensa un po' questa cosa? Che il successo consiste anche nel dimostrare agli altri? Occhio, è una grande trappola. Perché questa convinzione profonda mi ha fatto prendere una serie di scelte stupide, poco utili per me, soprattutto professionali, che mi hanno portato ad avere un lavoro importante come manager in una grande azienda informatica, ad avere soldi, la macchina aziendale, il telefonino, a frequentare le persone giuste e gli ambienti giusti ed essere profondamente infelice. E la cosa terribile è che ogni volta che osavo dire a qualcuno guarda che io sono infelice, io non sto bene qua. Puntualmente mi rispondevano sei infelice, ma perché? Hai tutto ciò che si può volere, ma tutto ciò che può volere chi? Il punto è questo. Non è così che si ottiene il successo. Il successo, sapete qual è la mia definizione di successo? Il successo è il participio passato del verbo succedere, ovvero accadere. Io ho successo quando faccio accadere ciò che io voglio che accada, non altre persone, vero o no? Lo ha fatto Andrea Grassi, lo posso fare anch'io. e allora il problema è che io allora non avevo idea di che cosa volessi nella mia vita, cosa volevo che succedesse. Non avevo idea. E allora mi sono trovata a vivere la vita di qualcun altro. Una volta ho letto su Facebook una frase molto interessante. inizia a costruire i tuoi sogni prima che qualcun altro ti assuma per costruire i suoi. È terribile, vero? Io stavo facendo proprio quello, io ero caduta in quella trappola. E allora, una volta, improvvisamente, sono scoppiata. Scoppiata, così, di punti in bianco. ho mollato tutto, ho mollato lavoro, ho mollato questi ambienti fighissimi, ho mollato città. Io vivevo a Bologna, allora sono tornata a Riccione perché volevo stare vicino al mare. Iniziavo a capire che per essere felici dobbiamo fare qualcosa che ci piace, giusto? Però più di tanto, cioè più di così non andavo, nel senso che non avevo altri strumenti, non avevo le competenze che ho ora per capire quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri valori, cos'è bello e giusto per noi. La PNL, dicevo, che roba è? Non ne avevo idea. E allora, da bravo ingegnere informatico, ho proceduto per un algoritmo che si chiama tentativi ed errori. Ovvero, sceglievo un lavoro un po' adminchiam, latino, e se mi piaceva lo tenevo, altrimenti lo cambiavo un po' così. E ho fatto la wedding planner, ho fatto, ho aperto un'agenzia, di viaggi, poi vivevo a Riccione, sapevo organizzare eventi, vuoi che non faccio la direttrice in discoteca? Biblos, paradiso, ho visto cose che voi umani potete solo immaginare in quegli anni lì. È stato molto utile, molto istruttivo, però c'era una fregatura, non potevo ancora essere felice perché lo zaino era sempre lì. Continuavo a trasportare questo zaino di convinzioni che mi stava schiacciando. Un bel giorno, per caso, non credo più al caso da un bel po' di tempo, sono venuta a contatto con un libro di Tony Robbins, un formatore molto famoso. Questo libro parlava di crescita personale, di obiettivi, di valori, parlava di programmazione neurolinguistica. Io allora non avevo idea che esistessero dei corsi che insegnavano alle persone a essere persone migliori, a fare scelte più furbe per la loro vita, a trovare i loro obiettivi, ad esempio. E infatti, in particolare, questo libro parlava di un corso, il Day to the Destiny, che prometteva di farmi capire che cosa avrei voluto fare da grande. Figata, è il mio. Piccolo problema, costava 4.500 dollari, era a Palm Spring in California, bello lontano, e quindi tutto il pacchetto con volo, viaggio, stare lì, vitto alloggio, 6.000 euro, che erano a malapena ciò che io allora avevo nel conto. Ma ho fatto una scelta e ho deciso di andare. Ed è stata la scelta più furba che ho fatto in vita mia. O meglio, quando sono tornata ho poi scoperto che lo stesso corso c'è in Italia, si chiama Excellence, costa molto meno ed è in italiano, ma lasciamo perdere. Chi di voi ha fatto l'Excellence a proposito? Fatemi sentire che esperienza è. Pazzesca, e questo è un buon momento per sgombrare definitivamente il campo da tutte le scuse e le giustificazioni in merito al fatto che io ho ottenuto i miei risultati per mie caratteristiche personali. Perché io mi arrabbio da morire quando mi dicono beh, Roberta, tu sei fortunata, hai quell'atteggiamento, sei determinata, sei ottimista, sei sempre rivolta al risultato, non hai paura di commettere errori. Primo, l'atteggiamento non è qualcosa che si ha o non si ha, è qualcosa che si fa. L'atteggiamento è dato dalle nostre convinzioni e dalle nostre azioni. Prima cosa. Seconda cosa, quando in generale mi dicono che sono fortunata per qualcosa che io ho ottenuto facendomi il mazzo, mi arrabbio. Tipo, sei fortunata, hai quel fisico. Grazie, mi alleno sei ore al giorno. Non è fortuna questo. Lo stesso è per l'atteggiamento. E poi vi garantisco che io non ero così, anzi, determinata, ma de che? Passavo più tempo a cercare scuse per la mia inazione che ad agire. ottimista? Figuriamoci. Ora, chi di voi ha visto Inside Out? Chi di voi sta pensando dove l'ho vista quella? Siamo uguali, lo so. Mi devo solo fare i capelli blu e poi sono uguale a gioia. Perché adesso, caratterialmente, io sono uguale a gioia, ma lo sono diventata. Prima, la mia convinzione guida era vola basso. perché così quando cadi ti fai meno male. E ancora, propositiva, positiva, orientata al risultato. Non hai paura degli errori, ma di cosa? Io ho vissuto per anni nella convinzione che sbagliare fosse il peccato mortale. Io dovevo dimostrare agli altri di essere perfetta. Chi di voi ha questa paura? Ma tenete la manina. Ok. Perché non vi chiedo di alzarla forte, so cosa significa. che significa. Poi, sapete qual è l'errore più grande che facciamo noi nella vita? È vivere nella paura di commettere errori. Quello è. Io avevo quella paura lì. Insomma, il mio excellence, che cosa mi ha dato il mio excellence? Mi ha insegnato a viaggiare leggera. In che modo? Prima di tutto, per viaggiare leggeri bisogna avere una destinazione, giusto? Dobbiamo sapere dove andare. E mi ha aiutato a trovare i miei obiettivi. Io ho scoperto che avrei voluto fare la coach e la trainer. Magari la scrittrice e, oh, volesse il cielo fare anche un Ironman. Ti è. Fatto, fatto, fatto. Intanto. E ne ho tanti altri di obiettivi. E soprattutto mi ha insegnato come viaggiare. Mi ha insegnato a svuotare lo zaino di quelle convinzioni pesanti. Cos'è una convinzione pesante? È qualcosa che ti impedisce di agire. Tipo, sbagliare è vietato. Meglio evitare di agire piuttosto che agire e commettere un errore. Questa è una convinzione bloccante. E allora io, grazie al mio excellence, ho tirato fuori tutte queste convinzioni. E il successo lo otteniamo quando dimostriamo agli altri di averlo. è diventato. Noi abbiamo successo ogni volta che facciamo qualcosa che amiamo, qualcosa che ci piace. E ancora, gli errori sono il diavolo. Sbagliare è vietato perché dobbiamo essere perfetti è diventato. Gli errori sono una benedizione perché è solo grazie agli errori che noi miglioriamo e cresciamo. Siete d'accordo su questo? E l'ultima, la più pericolosa, vola basso perché così quando cade ti fai meno male è diventato sognaforte perché quando sogna abbastanza forte ti rimbocchi le maniche nella vita puoi ottenere tutto ciò che vuoi porca miseria. Vero o no questa cosa? e vi dico l'ultima cosa in merito all'importanza di viaggiare leggeri. La vita a volte ci mette davanti degli ostacoli vero? Ogni tanto perfetto. Immaginate questo immaginate di dover scavalcare un ostacolo alto due metri è faticoso magari in qualche modo ce la facciamo ci arrampichiamo però ce la facciamo in qualche modo. Immaginate di doverlo scavalcare con uno zaino pesantissimo diventa molto più difficile se non impossibile giusto corretto? La vita è la stessa cosa. L'ostacolo più grande che la vita mi ha messo davanti è stato quello della malattia e io vi garantisco che se avessi dovuto scavalcarlo con lo zaino che avevo prima io non sarei qui a raccontarvelo perché i medici hanno detto le cure nel suo caso hanno avuto un esito straordinario e tanto è di peso dal suo atteggiamento. Abbiamo visto cos'è l'atteggiamento? È anche dato dalle nostre convinzioni. E allora adesso io lo zaino l'ho svuotato. Non so quali altri ostacoli mi metterà davanti la vita però con questo zaino qua pieno di convinzioni leggerissime utili e potenzianti per me e pieno di cose dal peso specifico molto leggero tipo passione amore gratitudine io so che posso superare qualsiasi sfida. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.